Tra i primi 20 posti negli asili comunali, l'81% sono assegnate ai bambini con cittadinanza italiana, bentornata normalità. Questo recitava il post della discordia pubblicato dall'assessore alla scuola del comune di Arezzo Lucia Tanti, che aveva scatenato un vero polverone politico. L'assessore, che in quel momento si trovava fuori Arezzo, replica adesso di persona e ferma nelle sue convenzioni, ci spiega meglio quell'espressione tanto chiacchierata. Non ci sono particolari sconvolgimenti, c'è un rafforzamento di quella che io chiamo normalità, che credo sia un termine ancora che si possa usare, e cioè che quando c'è uno specchio che ritorna, cioè se rispetta una presenza di un 11% di immigrati e quindi di un 89% di non immigrati, i servizi fondamentalmente rispecchiano questo dato, siamo in una situazione di normalità. Non è normale una situazione in cui, esempio, su 10 persone presenti, di cui 7 immigrati e 3 non immigrati, i servizi vanno a 7 immigrati e a 3 non immigrati. Questo è un dato sperequato. Non so se sperequato è una parola politicamente corretta, ma è una parola colta che si può usare. Quindi la normalità era collegata ad un dato che rispecchia le presenze in questa città, che vuol dire che questa città offre servizi equilibrati rispetto alle utenze. Tra i principali detrattori dell'assessore Tanti, Francesco Romizzi, consigliere di minoranza in Consiglio Comunale, che non si muove di un millimetro, anche lui, dalla ferma condanna di quanto espresso dall'assessore. Le dichiarazioni di Tanti sono una via di mezzo tra la demagogia populista e un approccio reazionario di un assessore di parte. Per due motivi. Primo perché ho fatto un'analisi e vi posso assicurare che non c'è nessuna variazione di presenza di stranieri nelle nostre scuole dell'infanzia. Ci attestiamo sempre intorno al 14%, nel 2013 diciano il 14,07%, nel 2015 14,3%. Quindi di fatto lo specchio della società, gli stranieri ad Arezzo sono il 15% e 14% vanno nei nostri asili. Questo è il primo dato di fatto, demagogia. Dall'altro lato un assessore alle politiche sociali, che rappresenta quindi tutta la città, non può dire bentornata normalità, quando nei primi 20 abbiamo meno stranieri. La normalità di un'amministrazione pubblica democratica è quella di rappresentare tutta la città e non solo un pezzettino o comunque la pancia del più basso leghismo presente in città. Su questo faremo un'interrogazione alla Tanti e non escludo che la forza politica, che in qualche modo rappresenta un Consiglio Comunale, possa fare anche delle iniziative pubbliche su questa tematica. Intanto sono uscite le graduatorie definitive sul sito dell'ente per l'ammissione appunto alle scuole dell'infanzia Acropoli, Orciolaia, Pallanca, Don Milani, Villa Sitorni. Le graduatorie sono quindi consultabili da parte dei cittadini che fino al 20 di aprile possono concludere le litere con la pratica di accettazione per chi ha i requisiti, pena l'annullamento della propria domanda.